La FIAIP continua la sua battaglia su Enasarco no grazie. Il presidente nazionale della federazione che riunisce gli agenti immobiliari professionali, Paolo Righi, ne spiega le ragioni. L'Enasarco, che è un ente previdenziale integrativo, quindi non dovrebbe essere volontario, vuole cooptare tutti gli agenti immobiliari alla propria sfera. Questo in primis sarebbe un aumento della tassazione per gli agenti immobiliari perché l'Enasarco è l'unico ente in Europa, forse nel mondo, i cui contributi non vengono ricongiunti all'Inps. Sta di fatto che gli agenti immobiliari che già pagano l'Inps si troverebbero obbligati a pagare una previdenza integrativa e l'obbligatorietà e l'integrazione non esistono in termini giuridici e poi nel caso dovessero cambiare mestiere perderebbero tutti i contributi versati. L'Enasarco in questi anni ha creato il fenomeno dei silenti, 550.000 persone che hanno versato all'ente ma che poi sono state licenziate e hanno perso il lavoro e non rivedranno mai più i loro soldi e non riceveranno nemmeno il trattamento pensionistico. Inoltre Enasarco che vuole fare cassa con i nostri soldi, con i soldi degli agenti immobiliari ha avuto recentemente dei gravi problemi in ordine evidenziati anche da trasmissioni televisive e da tante come report e tanti interventi parlamentari di un possibile, noi non lo sappiamo, non siamo tecnici, fatti sul bilancio. Sono stati persi 800 milioni di euro degli agenti di commercio perché Enasarco li aveva investiti in un fondo alle Caiman denominato Antracite e altri fatti che sono riscontrabili tutti sul sito del Senato della Camera dei Deputati perché le interrogazioni della politica sono tante su questo tema quindi noi diciamo di no a Enasarco diciamo di no a Enasarco anche perché le due professioni quella dell'agente di commercio e dell'agente immobiliare sono incompatibili per legge. Avete anche chiesto il commissariamento di Enasarco? Noi abbiamo chiesto il commissariamento dell'ente perché noi pensiamo che vada rivisto il piano cinquantennale voi sapete il piano di sostenibilità voi sapete che l'ente è privato quindi parliamo di un ente privato che è vigilato dal Ministero del Lavoro tempo fa il Ministero ha chiesto un piano di sostenibilità a 50 anni per l'ente, per tenerlo aperto, per tutti gli enti noi contestiamo in radice questo piano e diciamo anche che non può esistere una contribuzione integrativa obbligatoria e quindi cerchiamo di riportare il fatto che Enasarco possa reintegrare i propri contributi all'interno dell'Inps.